carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi vizi e virtù siamo giunti alla trattazione sul quarto vizio capitale che abbiamo introdotto la volta scorsa cioè l'ira abbiamo fatto come al solito la portata introduttoria con rassegna biblica descrizione sommaria di questa virtù introduttoria presentazione sintetica di quello che sant'ommaso d'aquino propone su questo vizio capitale oggi quindi iniziamo la disamina e l'approfondimento forse riusciremo anche a concludere l'argomento forse ci porteremo un appendice per la prossima puntata entriamo subito però nel merito senza dilungarci troppo in modo tale che riusciamo un po a procedere se dio vuole con speditezza speriamo anche con un pochino di chiarezza abbiamo visto la volta scorsa che l'ira secondo sant'ommaso ha le solite sei figlie quindi cioè i suoi prodotti diretti quindi che cosa fa una persona quando cede nell'ira cosa produce l'ira figli sono proprio il prodotto degli esseri umani no quindi e poi però c'è anche tre specie e tre gradi molto importante approfondire queste cose anche sempre molto bello io personalmente trovo queste diciamo così queste classificazioni e questi approfondimenti della somma teologia di sant'ommaso assolutamente edificanti e come sempre estremamente chiari la quinate a questa grande pregio ed era anche l'intento con cui scrisse la somma teologia certamente somma teologie per accostarci si ci vuole un pochino di attrezzatura di base per quanto lui si sforzi di essere come dire semplice chiare distinto però certamente che è un'opera un po' per addetti ai lavori quantomeno una persona per accostarsi alla somma teologia deve avere un'attrezzatura filosofica di base soprattutto per quanto riguarda la filosofia aristotelica altrimenti non comprenderà alcuni ragionamenti ed anche diciamo una visione generale di quella che è la dogmatica cattolica insomma altrimenti non si orienta dietro quanto meno i concetti di fondo fondamentali quando però questo testo viene usato magari da chi riesce si spera ad accapezzarsi un po' come strumento per spiegare che a mio avviso si rivela eccezionalmente formidabile perché poi il catechete il divulgatore semplifica e adatta quella chiarezza un po' elevata che il dottore angelico usa alla comprensione possibile da parte di chiunque allora andiamo a vedere alla luce di queste considerazioni cos'è cosa sono queste sei figlie anzitutto le figlie sono l'indignazione la tracotanza il clamore la bestemmia l'insulto e la vissa le tre specie che vedremo sono la bile la mania e il furore e i tre gradi sono l'ira interna l'ira esterna nella manifestazione e l'ira esterna nell'esecuzione pronti partenza e via allora di queste cose per esempio delle figlie dell'ira abbiamo già visto qualcosa la volta scorsa premesso nei passaggi delle pistole paoline e anche di San Giacomo Aposto evidente però le riprendiamo e seguiamo il ragionamento della quinate l'indignazione o sdegno ricordate San Paolo non scompaia da voi ogni asprezza sdegno, ira, clamore, maldicenza qua già ne troviamo due no? l'indignazione o sdegno e clamore quindi l'indignazione o lo sdegno che appunto è la prima figlia dell'ira consiste nei moti di rabbia quando uno si indigna di stizza o di estremo fastidio che noi proviamo quando quando comprendiamo che qualcuno generalmente il nostro prossimo ha fatto qualcosa di che va di offensivo nei nostri confronti o nei confronti dei nostri ideali o nei confronti dei nostri cari o nei confronti dei nostri beni e così via San Tommaso d'Aquino nel momento che qui nell'ira questo vale più che in altre circostanze fa sempre notare che i primi moti anche dell'indignazione quindi i primi sommovimenti che noi sentiamo non sono ordinatamente e formalmente peccato perché lo diventano solo in seguito al nostro consenso questa è una distinzione che occorre imparare anche per capire se e quando abbiamo peccato Sant'Alfonso Meredi Delicuore diceva non sono peccati li mali pensieri sono peccati li mali consensi cioè come avviene per i pensieri uno ha un pensiero orribile un pensiero impurissimo al 100% o un pensiero di bestemmie vedete che le bestemmie mentali è un vecchio trucco del diavolo persone che si sentono martellare la testa con il bestemmie oppure sentono una bestemmie e poi gli risuona l'eco interiormente magari pensano di aver fatto chissà quale grosso peccato ammortale semplicemente perché ce l'hanno in testa ma se una persona all'apprendimento di quel pensiero prova di pugnanza prova disgusto non lo asseconda non solo che non ha peccato ma ha meritato perché sta resistendo ad una cosa negativa stessa cosa vale per un pensiero impurissimo che può essere provocato direttamente dal diavolo che non ci mette niente può essere provocato per esempio da un fattore completamente contingente oggi esperienza di moltissime persone può succedere che uno si sta vedendo perché la scatolaccia del diavolo e anche i film e compagnia cantante veramente oggi sono un problema può succedere che uno si vede anche magari che ne so un film che né il titolo né la trama né fanno pensare niente di che dopodiché a un certo punto in maniera completamente proditoria all'improvviso scena di nudo scena di sesso esplicito è una persona che fa allora se uno smette completamente non rischia però un fatto di quel genere che fa cambia gira subito lo sguardo inevitabilmente però purtroppo purtroppo perché basta un secondo per quella immagine te la troverai purtroppo tra i piedi per un pochino di tempo se l'hai vista purtroppo non volevi tu dici ma se io avessi saputo che in questo film c'erano delle scene di sesso esplicito l'avrei visto lo stesso questo devi fare questo è il ragionamento come devi fare se dici mai sicuramente certo ti è successo e ti dovrai sentire questo questo fastidio così come per esempio purtroppo chi ha peccato nel passato se si è fatto le overdosi di pornografia a questo sappia che dovrà fare sicuramente penitenza per tutta la vita perché sicuramente capiterà che tutta quanta quella montagna di sporcheria che siamo immagazzinata nella memoria ogni tanto il diavolo andrà a aprire qualche cassetto e te lo sbatte davanti e lì dovrai combattere per non consentirle per sforzarti di pensare ad altro così che uno sente salire i nervi dinanzi a queste cose qui per un attimo ancora non c'è peccato facciamo un esempio se io vedo una persona compiere una cattiva azione avvertirò sicuramente un modo di sdegno ma posso reagire in maniera molto differente assecondando questo modo di sdegno per esempio pensando una frase del tipo ma guarda questo oppure molto molto peggio oppure anziché organizzare una reazione di questo genere respingi una reazione di questo genere e magari penso poveraccio questo qua povero disgraziato guarda lì che si è ridotto a fare e magari faccio pure mentalmente un Ave Maria per perché il Signore aiuti questo povero disgraziato a prendere magari coscienza del male che sta facendo è molto diverso il male visto è sempre il male visto no? però la reazione è differente se assecondiamo l'indignazione pecchiamo se non assecondiamo i moti di indignazione che sorgono spontaneamente non pecchiamo meritiamo vinciamo così capiamo anche come si fa come si cresce nella santità si cresce combattendo contro i vizi mortificando i vizi e praticando le virtù questo è un esempio tra gli innumerevoli che si potrebbero fare quindi se io dico un Ave Maria per la conversione di quella persona è chiaro che io ho sentito e avvertito i modi dell'indignazione ma non solo non ho commesso alcun peccato ma ho praticato un grande atto di virtù forse pure eroica cioè perché se la cosa che avevo detto mi aveva fatto venire il sangue agli occhi come si dice quindi non è che mi ha provocato uno sdegno ma come si legge nell'Iliade l'ira funesta che infiniti addusse l'utti agli achei quindi proprio mi ha mandato in bestia proprio mi ha provocato una indignazione somma assoluta e io reagisco in questo modo ho praticato un atto di virtù eroica quindi indignazione e sdegno sono umanamente comprensibili però non è la reazione giusta dinanzi al male che noi possiamo vedere anche al male oggettivo e anche al male commesso per esempio contro Dio anche al male che vediamo non si dovrebbe vedere ci sono una montagna di applicazioni di questo di questo principio ognuno poi come sempre accade nei percorsi catechetici specialmente questo diciamo a sfondo evidentemente anche morale comportamentale dovrà fare delle proprie applicazioni e trarre da questo diciamo così luce alimento per crescere se crede ora seconda figlia la tracotanza la tracotanza consiste dice sant'ommaso nell'accogliere il proposito di vendicarsi del male in qualunque modo subito cominciando ad escogitare le forme e i modi più adeguati per mettere in pratica tale progetto non so chi di voi sapesse questa proprio significazione proprio del termine tracotanza perché a volte i termini non sempre li comprendiamo bene adeguatamente no ora non si pensi che uno per cadere in questo peccato debba programmare una vendetta mafiosa nel senso che assoldo i killer e ti faccio trucidare sotto casa no ci vuole molto meno ci vuole no ora la grande maggioranza delle vendette consistono in piccole rivalze nella vita quotidiana tipo parlo male della persona ad un terzo questa era più classica gli tolgo il saluto gli infliggo una piccola mortificazione una parola pungitiva una battuta sarcastica e così via in qualche modo gliela faccio pagare farla pagare è tracotanza questa figlia dell'ira è sempre peccaminosa e contro questa figlia dell'ira si ergono stentore le parole del libro del Siracide che dice ma non solo del Siracide sono anche le parabole evangeliche chi si vendica avrò la vendetta del Signore ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati ricordiamo anche la parabola del servo spietato farla pagare la tracotanza paga quello che devi paga quello che devi noi noi non possiamo farla pagare amici miei i figli di Dio non possono farla pagare a nessuno certamente se si ritiene opportuno per qualche questione a dire la giustizia umana civile ecclesiastica se uno crede se è il caso è possibile farlo certamente per la tutela dei propri diritti ma presentare noi il conto alle persone quindi farla pagare non si può non si può lo fanno tutti quanti gli esseri umani ma i figli di Dio non lo fanno per non cadere in questa seconda figlia dell'Ira attenzione perché qui esame di coscienza guardate che altre volte ci sono una montagna di 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 gesti vendicati con uno sguardo una mancanza di considerazione voluta un ammiccamento se siamo sinceri e Dio voglia che impariamo ad esserlo Dio voglia perché se no le smascheriamo tutte quante certo piano piano perché a volte se il Signore ci manda un po' di luce e ci vediamo dentro la coscienza ci potrebbe venire un po' di inorridimento insomma perché vedremmo purtroppo quante serpi sono annidate ahimè dentro le pieghe della nostra anima però le serpi bisogna stanarle dai buchi e schiacciarli la testa se tu ignori che ci siano quelle là rimangono ricordiamo sempre che nella vita interiore i problemi da soli non si risolvono così come nella vita reale allora terza figlia il clamore che cos'è il clamore il clamore lo dice il termine stesso no consiste nel cominciare ad esternare con le parole espresse tra l'altro in modo confuso disordinato e sgraziato il proprio sdegno interiore ordinariamente lo si fa pronunciando delle piccole impregazioni i vari modi con cui si evoca un animale in mondo no che sarebbe il maiale ecco o in altri termini il porco quando si cominciano con porco qua e porco là ecco magari anche la cosa piccola no quindi non necessariamente i grandi ma piccolo non voglio non voglio ripeterle anche se sono piccole tanto ci siamo capiti no a volte poi si scatta parolacce contro la persona e qui già andiamo sul penale o contro la situazione queste modalità oggi sono no diffuse di più o tutto questo però senza giungere a vere proprie offese del prossimo di Dio cosa che avviene nelle altre due figlie cioè la bestemmia che insulta a Dio e l'insulto che appunto insulta al prossimo in ogni caso il clamore comincia a esternare generalmente con l'impregazione oppure appunto come detto con il manifestare esternamente lo sdegno lo sdegno con parole contro la persona contro la situazione la bestemmia boccaccia proprio di satana non è altro che rivolgere ingiurie di rabbia e di sdegno totalmente ingiustificate sempre contro Dio la Madonna e i Santi sfogando la propria indignazione profonda contro gli unici che non ne hanno la minima colpa ora la bestemmia ecco mi ci fermo insomma qualche qualche istante è una delle cose proprio più becere brutte proprio esecrabili che possa credo esistere sul pianeta Terra e tra l'altro così tanto diffusa tra gli esseri umani specialmente in certe zone ma è una delle vergogne d'Italia la bestemmia è uno dei primati internazionali di cui certamente non c'è da andare fieri purtroppo nella sagra scrittura come sappiamo bene c'è scritto si legge nel libro dell'Apocalisse che alla bestia fu dato una bocca per proferire bestemmie Apocalisse 3 5 è proprio il il bestemmiatore è stato definito da Santa Caterina da Siena un demone incarnato perché i diavoli chi li ha sentiti lo sa molto bene quando si esprimono sono di una volgarità che fa vomitare d'accordo si esprimono a parolacce e spesso e volentieri a bestemmie orribili questo atto veramente è un'attestazione indiretta della bontà della magnanimità di Dio perché un essere così miserabile sporco e impotente che osa sfidare nostro Signore questa è una cosa da inorridire questo proprio perché nostro Signore è proprio un Signore e poi perché vuole profondamente bene i Suoi figli ma per mezza bestemmia tu potresti essere fulminato all'istante dall'Altissimo cioè che il nulla ingiuri offenda vomiti veleno contro il tutto è proprio una cosa che ci sono basti della scrittura dice inorridite nei cieli non si può non si deve ma non è soltanto il più grande atto di superbia ma è anche il più grande atto di stupidità che si possa commettere perché a testa la proprio la stoltezza di colui che offende tratta da nemico l'unico che soltanto che lo ama che gli è amico che gli rivolge una montagna di beni che lo salva la bestemmia è inoltre proprio un grandissimo segno di maleducazione la maleducazione oggi è costume proprio io li chiamo gli abitanti di cafonia ma non è mia espressione l'ho rubata a un santo vescovo allora i figli di Dio si distinguono per la buona educazione San Paolo dice non soltanto scompaiono nessuna parola cattiva ha scappato dalla vostra bocca cioè una grandissima educazione uno straordinario garbo un senso di rispetto sono da riscoprire sono noi stiamo vivendo in una generazione dove c'è una masnada di maleducati o di ineducati c'è differenza o di maleducati mia mamma se posso raccontare un aneddoto che credo che si possa raccontare insomma della mia infanzia mi diceva sempre se mi dicono che sei cattivo e che ti sei comportato male te gonfio perché io l'educazione te lo insegnare se invece mi dicono che sei maleducato te gonfio lo stesso ma dirmi che sei maleducato l'offesa è data a me perché mi stanno dicendo che io non ti ho educato anzi che ti ho educato male ma non è vero questo qui altre volte ho avuto modo di dire che padre Pio alla fine degli anni 50 inizio degli anni 60 diceva vi verrà una generazione di genitori incapaci di educare i figli non vorrei essere nei panni dei vostri dei vostri nipoti in casa mia almeno fino a quando ero piccolo se sentivano una una parola storta c'era pericolo che saltasse qualche dente l'educazione è una cosa che si impassa non dico adesso sto parlando evidentemente per per i perboli no insomma anche se ogni tanto ecco non possiamo essere maleducati figli alimicali cioè dobbiamo riscoprire la bellezza dell'educazione dappertutto nei modi nel trattare cioè nel non essere mai volgari offensivi nello scende non scendere mai a certi livelli io per esempio personalmente questa è un'altra cosa sono completamente allergico e mi devo sforzare a dare del tu sono cioè io la considero una forma di maleducazione specialmente con una persona che non conosco io non ho mai del tu se una persona non mi autorizza a farlo quando una persona è sconosciuta non è una cosa bella non lo è meno che mai nei confronti di un consacrato io e mio confratello nonostante che tra confratelli ma tra confratelli io il doppio gli do di lei se poi entriamo in confidenza se reciprocamente decidiamo di darci del tu va bene ma senza che questo significa mai cadere in quella come dire censura del popolar proverbio che dice che la confidenza è la madre della mala creanza ed è verissimo questo qui è verissimo una persona che è maleducata evidentemente poi insulterà anche il prossimo quindi la quinta figlia insulto gli insulti sono una forma oltre che evidentemente peccaminosa noi sappiamo bene cosa dice Gesù nel Vangelo no? se tu a tuo fratello gli dici stupido sarai se tu ti adiri sarai sottoposto a giudizio se gli dici stupido al sinedro se gli dici pazzo alla genna pensate adesso in giro in quella tv spazzatura che oggi dilaga pensate per esempio i talk show i talk show ma non sono i talk show pensiamo anche tante cose che si vedono nelle sacre aule dei parlamenti usiamo il plurale maiestatis nei comizi delle pubbliche piazze io ho sentito quando ancora sentivo qualcosa pubblico politici esprimerci a parolacce o cose di questo genere con le piazze piene di di gente questo fa anche capire insomma il il livello in cui stiamo scadendo queste non sono cose belle in politica non dovremmo mai scendere a questi a questi mezzucci cioè noi per portare avanti le nostre idee non abbiamo bisogno di offendere di insultare nessuno e non possiamo mai entrare in questa logica gli spettacoli dei talk show sono tutt'altro che edificanti insomma no quindi sono proprio adesso il vizio il vizio capitale dell'ira quello che stiamo vedendo ah guardate un talk show adesso e te le vedi ci sono delle delle manifestazioni macroscopiche e poi ce ne sono altre comunque però l'insulto è rivolgere parole offensive volgari per lo più anche se non necessariamente aggredendo offendendo mortificando chi ci contraria in qualunque modo chi ci ha fatto arrabbiare chi la pensa diversamente da noi a volte quando ci salgono i 5 minuti ecco se uno vuole proprio trovi un modo un pochino più saggio per esempio c'era Sant'Alfonso che aveva imparato che che insegnava le parolacce sante e le impregazioni sanse proprio uno non ne può fare almeno d'accordo per esprimere la propria come dire diciamo così per esternare un disappunto può anche usare espressioni tipo accipicchia oppure perbacco oppure accidenti oppure mamma mia non c'è bisogno di ricorrere a a altre cose no? se gli viene da dire mannaggia cioè mannaggia facile si può dire mannaggia ai peccati tuoi se si vuole offendere il prossimo mannaggia i peccati tuoi se non si vuole offendere il prossimo mannaggia i peccati miei cosa devo sempre dire è una tra virgolette non è nemmeno una una parolaccia è un incanalamento diciamo così del fiume in piena che a volte ci prende dello sdegno verso qualche sbocco che lo porta al mare senza che ci siano stralipamenti e debordamenti no? qualcuno dice se può dire mannaggia al demonio se può dire anche se il demonio più lo lascia perde meglio è qualcuno dice non lo fa arrabbiare perché cioè non lo andà a sfrucugliare d'accordo però di per sé si può di ecco c'era qualche altra facezia insomma che dice si possono lanciare gli accidenti santi come no le possino coricatte le grazie e benedizioni non mi ricordo se era proprio Sant'Alfonso no? dice tu potresti ma vanno riammazzato per la fede diceva così no? dire auguri a uno che muoia martire non perché tu lo vuoi togliere dai piedi perché possa avere la più grande gloria possibile che si possa avere in paradiso insomma che è il martirio ecco sto giocando un po' ma neanche neanche troppo questi sono tra il serio e il faceto cioè occorre imparare reimparare re proprio qui dobbiamo veramente fare il reset perché stiamo su moduli comportamentali sotto questo punto di vista che sono completamente sballati stiamo in mezzo a una società di grandissimi cafoni e essere un grandissimo cafoni in questo cafoni non nel senso perché si può essere come dire rustici nel senso non molto istruiti quindi non raffinati nei modi e negli stili questo non c'è nessun problema davanti a Dio anzi si può essere persone buonissime ed educatissime pur essendo pur avendo questa semplicità che in certi modi che in certi casi può diventare anche rozzezza ma essere cafone non è sinonimo di essere lozzo il cafone e il male educato può essere anche una persona estremamente istruita plurilaureata e credo che di esempi al riguardo in giro ne vogliamo quanti ne vogliamo ok o anche ricca se vogliamo l'ultimo atto a cui può portare la questione dell'ira è quella che l'angelico chiama rissa che nel nostro significato generico è il passaggio alle vie di fatto cioè oltre che l'insulto si cominciano ad alzare le mani spintoni schiaffi cose del genere oppure proprio botte da orbi chimena lo fa in preda all'ira quindi percorsi reiterati che possono provocare le versioni lievi gravi possono avvenire in forma come dire collettiva quindi pestaggi pubblicomigliazioni linciaggi e possono portare anche all'omicidio l'ira può portare tranquillamente all'omicidio no? pensate un incidente la cosa che ogni tanto succede in qualche cronaca c'è un incidente si comincia ad insultare uno tira la pistola e gli spara gli preda all'ira ora attenzione che queste sequenze qui abbiamo anche anche Sant'Omaso fa un'analisi per farci capire ma generalmente la velocità di questo specialmente nel cuore dell'iracondo cioè il passaggio dallo stato dell'indignazione all'omicidio che è una delle forme più gravi dell'ultima figlia cioè la rissa può avvenire in pochissimi secondi in maniera rapidissima questa passione va dominata volendo dire un'ultimissima cosa prima di passare alle specie ai gradi sulla bestemmia c'era una persona molto saggia che un tempo amava ripetere tu bestemmi sei la persona più stupida del mondo perché se ci credi e bestemmi sei fuori di testa se non ci credi e bestemmi sei stupido è un gran maleducato non c'è niente proprio di più inqualificabile ingiustificabile in tutte le forme in tutti i modi di questa cosa era noto il santo curato d'Arz che era pure pieno di bontà di amore di misericordia però te fece una guerra contro la bestemmia ad Arz una guerra punica non voleva neanche sentirle lontanamente sappiamo bene purtroppo come questa cosa in Italia è diffusissima si comincia da bambini io avverto l'ho già fatto altre volte attenzione ai genitori e a quelli che hanno i figli chi bestemmia davanti ai figli fa una cosa di una gravità inaudita e in confessione bisogna dirlo non basta dire ho bestemmiato ho bestemmiato davanti a mio figlio e a mia figlia c'è quello qua c'è il padre c'è che fa la madre i danni che produce una cosa di questo genere sono incalcolabili perché se un ragazzino vede fare una cosa da un genitore la rifarà se i genitori sono volgari si esprimono litigano davanti ai figli e si esprimono a parolacce dopo vai a dire al tuo figlio non dire le parolacce cioè i compiti educativi pensate se un prete si esprimesse a parolacce ma come fai a andare a dire alle persone quello che sto dicendo io adesso non si può chi ha compiti educativi ma un politico un governante non devono essere esempi devono essere non bisognerebbe mai abbassarsi a tante bassezze ma neanche per contrastare la cosa più cioè tu hai che ne so i tuoi avversari che hanno fatto delle carognate lo stile la classe come dire e anche le attitudini dei figli di Dio per carità stigmatizza le carognate ma stigmatizza la carognata senza insultare colui che la che la che la fa ci vuole grande virtù per fare questo però dobbiamo assoluto saperlo dobbiamo stimarlo amarlo e poi provarci per molestando che le cadute su questo su questo versante sono all'ordine del giorno perché chi impara a dominare perfettamente l'ira specialmente poi se c'è un temperamento collerico è abbastanza avanti nella via verso la santità andiamo a vedere adesso le tre specie abbiamo ancora un pochino di tempo penso che forse riusciremo a finirla questa sera la bile la mania e il furore la bile consiste nell'adirarsi facilmente per futili motivi è il classico comportamento dell'iracondo una persona che è irascibile c'è facilmente i travasi di bile sia a dire facilmente e per futili motivi in questo diciamo così contesto si situano alcune malattie dello spirito sono i miei cavalli di battaglie di alcuni di alcune omelie tipo la brontolosi che è la malattia che colpisce i discendenti del personaggio di fiabesca memoria ossia il nano brontolo certamente su questo difetto influisce il temperamento quindi abbiamo già visto che il sanguigno e il collerico qui nell'ira hanno la loro croce perpetua però qui rimando consiglio per l'ascolto dal non senso alla vita di cielo il temperamento è innato ma il carattere si acquisisce e il carattere non è altro che il temperamento educato darsi un bel carattere si può e si deve non è un'operazione che dura un giorno ci possono muovere gli anni ho detto l'altra volta scorsa 20 30 senta dobbiamo provarci amici miei non è vero che non si cambia mai è vero che è difficile cambiare e che il cambiamento richiede sforzo richiede tempo richiede costanza richiede perseveranza ma se tu queste cose le metti in pratica vedrai che col tempo migliorerai quindi abbiamo già visto la volta scorsa alcuni santi che avevano la bigliosità congenita appunto perché collerici puri sono passati alla storia come emblemi di pacatezza calma e dolcezza la volta scorsa abbiamo citato San Francesco di Salle il santo curato d'Ars Sant'Ignazio di Roiola quindi siamo ottimisti è una croce questa roba ma si può arrivare alla quadra si può dominare se poi impariamo dal Signore anziché a reagire adirandoci quando c'è qualcosa che per qualunque motivo ci contraria o un motivo futile se impariamo invece entriamo nel mondo della volontà di Dio ve ne dirò al Signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la sua note quindi se uno impara a prendere tutte quante le cose le avversità della vita le cose che ti fanno imbestialire perdere la pazienza come provenienti dalla volontà positiva o permissiva di Dio diventa tutto enormemente più semplice e anche un pochino più facile la mania la seconda specie dell'ira dopo la bile è più grave e consiste nell'ira persistente è inveterata a chi sta sempre arrabbiato avete mai visto le persone così sempre arrabbiate lo vedi in faccia sempre accigliate immusonite non trovano pace e non possono fare a meno quando aprono quella bocca di trascorrere giornate intere in giudizi gratuiti contro tutto e contro tutti taglienti talora cattivi chiacchiere pettegolezzi permalosità continue suscettibilità mettere in cattiva luce il prossimo continuazione polemiche aspre discussioni sguagliate sterile invettive violente rancori persistenti collera costante incontrollata oggi qual è la piazza dove queste cose si manifestano in maniera becera i social networks i social networks che sono una croce anche per chi in qualche modo ci sta oggi veramente di districarsi qualche volta che non controllo qualche o che qualche collaboratore purtroppo che puoi pensare che non mi va a controllare alcune cose se tu ti ritrovi sotto i post ma delle 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 cose che sono inqualificabili proprio l'ignoranza e la e la maleducazione raggiunge proprio proporzioni inaudite inaudite dietro la tastiera poi specialmente quando ci si cela sotto i falsi nomi no cosa che a me questo è proprio ci sono ci sono alcune cose che proprio danno fastidio no tu metti il nome e metti la faccia non ti andare a mettere sotto un al buio per sparare come un un folle no se ne vedono sotto questo punto di vista veramente di tutti i colori ma questi spesso e volentieri sono peccati mortali eh cioè perché qui poi il tasso cioè quando è che una cosa di questo genere dice ma quando è che diventa peccato mortale eh quando è che diventa peccato mortale non è molto semplice cioè perché da queste cose bisogna combattere le astenesse punto e basta ed è sempre meglio confessarle non sempre meglio è sempre bene doveroso confessarle è chiaro la piccola maldicenza è piccola maldicenza ma poi ci sono insomma le le circostanze soggettive quindi via queste persone che campano così e ce ne sono tante sono persone che si rovinano la vita e il buon gusto della vita però purtroppo la rovinano pure a chi gli sta intorno la rovinano a chi gli sta intorno e c'è sempre da ben raccomandare se mi posso permettere un buon discernimento facciano sempre le persone prima di procedere a celebrazione dei sacramenti del matrimonio perché il buongiorno si vede sempre dal mattino figlioli miei cari e è possibile cambiare sì ma dobbiamo sempre ricordare che difficilmente le persone cambiano e se non ci sono stati segnali di cambiamento come dire quando era possibile averli tenete sempre presente che la convivenza tra due persone non è che fa diminuire i difetti ma li acuisce di tanti matrimoni che ho sentito che sono andati a scatafascio tanti praticamente quasi tutti almeno a memoria erano matrimoni che prima di celebrarli ci sarebbe dovuto ci sarebbe dovuto pensare un pochino di più vabbè perché nella vita figlioli miei cari purtroppo cioè è chiaro che la nostra grande fede cattolica ci insegna che qualunque situazione noi possiamo sempre ricominciare sempre e il Signore ce la dà la seconda la terza la quarta la scianza non c'è nessun problema il problema però è che dinanzi ad alcune situazioni poi scelte avventate o fatte male ci ricadono addosso e la responsabilità ce la dobbiamo prendere questo Dio lo vuole ti perdona ti rialza però tu la responsabilità dell'educazione te la devi prendere se ti cadono addosso alcune cose le sopporti con pazienza se ci sta da riparare te l'accolli e cerchi di ripararlo e fai penitenza con la grazia di Dio si guarisce anche evidentemente dalla mania seconda specie dell'ira ma non pensiamo mai che chi ci sta intorno cambi troppo facilmente facciamo in modo di cambiare noi in meglio aiutati dalla grazia di Dio per quanto possiamo non facciamoci mai illusioni su cambiamenti da parte degli altri se arrivano ne siamo strafelici ma sappiamo sempre bene che possono arrivare ma ordinariamente difficilmente arrivano il furore l'ultima specie dell'ira caratterizza infine persone spietate e cattive quindi che non soltanto si accendono del desiderio di vendetta ma di un desiderio di vendetta aspro brutto cattivo e si placano solo quando la vendetta è compiuta e consumata qui chiaramente si tratta di uomini e donne che sono arrivati a causa della vita viziosa ad un tasso di somiglianza non indifferente con i diavoli perché il vendicativo per antonomasi quindi quello che non te ne fa passare una e che ne paghi tutte quante se si può il conto te lo presenta sempre è il diavolo quando si scende così in basso è possibile uscirne finché c'è vita c'è sempre speranza però ci vuole un mezzo miracolo per causare un cambiamento di rotta e di direzione quando la madonna prega esorta in continuazione preghiera penitenza preghiera penitenza preghiera penitenza è perché dinanzi a casi che poi diventano disperati ci vuole soltanto tanta preghiera penitenza perché ci sia appunto una sollecitazione forte straordinaria della grazia che consenta a chi è sceso parecchio in basso di trovare il modo e il sistema per rialzarsi quindi noi siamo sempre ottimisti anche se non ci facciamo illusioni i gradi dell'ira infine concludiamo sono quelli allora quindi indicati nel discorso della montagna abbiamo visto quali sono quindi l'ira interna chi si adira con il proprio fratello chi si adira non c'è bisogno che lo esterni si è arrabbiato se lo tiene dentro di sé ma c'è una rabbia consentita ma sono un bestialino comincia ad esternarla con parole mediamente offensive stupido e quindi questa già è l'ira appunto esternata manifestata pazzo quindi pazzo significa insomma che già una persona sta disprezzando veramente il prossimo e se al pazzo che già cosa di per sé grave seguono anche eventuali vie di fatto si arriva appunto a consumare il terzo ed ultimo grado ora la calma è sempre la virtù dei forti la calma e la pazienza disse la Madonna tra pochi giorni della Madonna di Fatima la piccola Giacinta la pazienza ci porta in cielo insieme a calma e pazienza c'è da coltivare la dolcezza e ricordando il proverbio che una goccia di miele fa sé più bene di un litro di aceto poi la gioia la spiritualità della gioia una delle più belle che esiste hai visto che stavano sempre arrabbiate accigliate non c'è gioia nel cuore la considerazione anche di tante cose brutte le persone stanno sempre a parlare male sapete perché lo fanno perché stanno sempre a guardare il male io in tante circostanze dico pensiamo anche adesso il dilagare che c'è adesso in giro delle notizie delle informazioni pensiamo anche non mettiamoci mai dietro cioè a quello che stiamo a quello che stanno perché per quanto mi riguarda mi sono chiamato fuori ma te l'ordine te l'ordine il medico di andarti a riempire la testa di brutte notizie ecco dopo praticamente tu l'indignazione ci butti la benzina sopra in continuazione o no tabeleni come come si dice ma pensa a qualche altra cosa di migliore pensa le cose belle ma pensa al signore pensa le cose belle che il signore ha dato pensa ad altro sorridi il sorriso è un'arma divina eccellente molti hanno detto che Gesù e la Madonna ridevano molto poco forse mai ma sorridevano quasi sempre e poi la lode la lode la lode a Dio la lode il ringraziamento la presa di coscienza di tante cose belle che ci dona la capacità di sapere guardare comunque i pregi delle persone anche quelli cattivi hanno delle cose buone la speranza il fatto che sempre Dio tiene il controllo della situazione che sa volgere il male al bene quindi l'abbandono in Dio non imporre la nostra volontà non esternare la nostra volontà non pretendere che le cose vadano secondo i nostri schemi sono tutti quanti strumenti come dire ascetici con cui combattiamo e fronteggiamo questo terribile vizio e cerchiamo di abbattere questo muro con tutti i suoi nefandi effetti chi vive in comunione con Dio dirà se l'ha messa sotto i piedi perché conosce la pace conosce la calma imperturbabile conosce il dominio di sé questi sono anche frutti dello Spirito Santo evidentemente e ordinariamente vivere l'estrema carità con tutti anche con i nemici e quindi tutte quante le valvole le fonti che appicciano l'ira che l'attivano sono completamente neutralizzate ecco come tutte le cose è difficile un pochino però con l'aiuto di Dio si può se l'hanno fatto altri anche se sono stati grandi santi lo posso fare anch'io Sant'Ignazio di Loyola cominciò il suo cammino così abbiamo citato come un grande vincitore della passione dell'ira sappiamo tutti quanti si era infortunato durante un'impresa militare stava dentro una casa non c'era niente da leggere e gli diterò un florileggio dei santi comincia a leggere e prima si stufava no? però credeva purtroppo c'è niente altro da leggere dopo di che è cominciato ad essere affascinato e dopo di che gli avviene un pensiero diciamo guarda questi come hanno campato bene ma se ci sono riusciti loro perché non dovrei riuscirci Dio? non è mancanza di umiltà cioè per carità grandi virtù mi faccio tanto di cappello ma non sono nati così ci sono diventati e quindi se loro l'hanno fatto possiamo farlo sicuramente anche noi Sant'Ignazio disse posso farlo anche io puoi farlo anche tu e posso farlo con l'aiuto di Dio anche io bene amici ci vediamo se devo andare alla prossima settimana cominciando un altro argomento stavolta torniamo alle virtù e vedremo bellissima virtù cardinale che è la virtù cardinale della giustizia alla prossima e Dio vi benedica e la Madonna sempre di ProTech